Nomi che fanno rumore, un contesto che ora dopo ora si va chiarendo sempre di più, stando alle carte della magistratura, e sullo sfondo una città, ancora una volta al centro dei media, per vicende legate a corruzione, appalti pilotati e un fiume di soldi pubblici utilizzato per agevolare amici e amici degli amici. Si arricchisce di nuovi particolari l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l'ex vice sindaco dell'Aquila ed ex assessore all'urbanistica Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini, numero 2 dell'Aquila Calcio. Nell'ambito dello stesso procedimento risultano indagati anche il dirigente comunale Vettorio Fabrizi e l'ex capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione Paolo Aielli, attuale amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Altri due imprenditori sono interdetti dall'attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica, si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Tutto ruota la ricostruzione dell'intero complesso salesiano che stando alle procedure si sarebbe dovuto finanziare con un importo massimo di 80.000 euro e che invece stando alle ipotesi investigative grazie all'intervento di Riga avrebbe beneficiato di un contributo da 28 milioni e mezzo di euro per lavori che poi ha eseguito la ditta Mancini. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti di corruzione che per magistrati e guardia di finanza si sarebbe materializzata con soldi che Riga avrebbe utilizzato per comprare auto ed appartamenti poi affittati ad un canone fuori mercato proprio a Mancini. Ipotesi di corruzione anche per gli imprenditori Lorenzini e Martini, mentre Aielli e Fabrizi sono finiti nel mirino della magistratura per concorso in abuso d'ufficio in quanto avrebbero dovuto rilevare l'irregolarità della pratica e fermarla prima dell'erogazione del maxi contributo. Il sindaco Cialente si è detto addolorato e nauseato per questa vicenda, mentre il deputato abruzzese Gianni Melilla è tornato ad invocare la creazione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post terremoto.